Non basta la cura Rambaudi a Legnano, i Lilla cadono 1-0 al mare contro il club Milano in una partita che classifica alla mano erano scontro salvezza, visto che i milanesi salgono a 7 punti e tallonano proprio il Legnano. La gara, a vara di emozione molto chiusa, si decide nella ripresa grazie alla zampata vincente di Diop. La sostituzione dell'allenatore non ha offerto il cambio di marcia, ha agognato e ora la stagione di Lilla ha preso una brutta piega, non aiuta il clima attorno alla squadra, sempre tesa a causa della diffidenza nei confronti della società guidata da un presidente in viso alla tifoseria.